E a chi ti accusa di fare una televisione trash? Che cosa rispondi? Vorrei che mi spiegassero cos'è la televisione trash e perché se fosse trash la faccio solamente io. Tu sei un po' autocritica con te stessa, ci sono delle cose che non rifaresti nel tuo percorso, diciamo, televisivo oppure no? Io sono molto critica, sono una perfezionista, sono una rompiscatole pazzesca, controllo tutto, però rifarei tutto, rifarei anche le trasmissioni che non sono andate bene, tutto, rifarei tutto. La preghiera indiretta la rifaresti? Assolutamente sì. Quella ti ha portato molte critiche? Moltissime. Lì mi è dispiaciuto perché chi mi ha criticato, perché ovviamente c'è stato anche invece chi si è schierato in mio favore, non ha compreso io quella preghiera indiretta, tu sai benissimo che erano i giorni dei famosi camion pieni di bar e di Bergamo e quindi chi me l'ha chiesto, ed era un politico in quel caso, mi ha chiesto di pregare per quei tanti morti. Istintivamente io l'ho fatto, indiretta, perché io sono così. Ma se me l'avesse chiesto la signora ottantenne che guarda Verissimo, che guarda Pomeriggio 5, che era in collegamento con me, mi avesse detto, Barbara diciamo un eterno riposo, io l'avrei fatto. Perché la preghiera in quel momento secondo me serviva, serviva a me, serviva alle persone che hanno compreso e che mi guardavano. Perché la preghiera in quel momento?